È la conclusione di un'annata davvero faticosa. Abbiamo iniziato a ottobre con questi campionati che hanno visto coinvolte tutta la provincia di Reggio. Siamo arrivati da San Giorgio Morgeto fino a Bovalino, Locri, quindi abbiamo coinvolto 600 squadre, 6.000 bambini. Sono state disputate più di 3.000 partite, quindi abbiamo fatto un lavoro eccezionale. Questo è un merito dello staff che compone il Comitato Provinciale di Reggio Calabria e il Comitato Provinciale ASC Calabria. Faccio i complimenti a tutte le società che sono arrivate in finale. Ricordo a tutti che le premiazioni sono domenica 23 giugno all'Arena dello Stretto, faremo una grande festa, ma faccio i complimenti a tutte le società che hanno partecipato ai campionati. Ci vuole un lavoro duro durante l'anno, di abnegazione. Molti dirigenti danno il loro tempo, lo dedicano direttamente ai ragazzi durante tutta la giornata, quindi c'è un lavoro dietro davvero, davvero duro. Noi come Comitato oramai, questo è il decimo anno che facciamo l'organizzazione dei campionati, possiamo dire che ci siamo confermati ancora una volta. Ci sono momenti veramente importanti per le famiglie, per i ragazzi, stiamo ben contenti di essere presenti. Fermo restando che l'obiettivo principale deve essere sempre quello del divertimento. Sinceramente devo dire che anche quest'anno mi hanno sorpreso in positivo. Una manifestazione è ben organizzata. Antonio Eraclini e i suoi collaboratori sono sempre efficienti, disponibili in tutto e mi aspetto anche qualcosa di veramente importante domenica prossima sul lungomare per le premiazioni. Rirriviamo da un campionato dove i ragazzi hanno combattuto. È stata una bella esperienza questa, ma soprattutto oggi. Ha vinto lo sport, ha vinto l'aggregazione e soprattutto il bel gioco. È l'amicizia che rimane. È quell'impronta che noi cerchiamo di dare sempre ai ragazzi. È da dieci anni che lottiamo a fare una scuola calcio stupenda. Ci presentiamo in giro con 250 ragazzini. Oggi siamo qua a fare una partita di gioia, diciamo, perché noi siamo venuti qua a divertirci. È la cosa più essenziale, vicino ai nostri ragazzi. Intanto un anno di sacrificio che poi all'ultimo ti ripaga, giocando di una finale, campioni provinciali a sette, primo anno, prima finale, prima vittoria. È una giornata bellissima come solo la SC sa fare e ci sa dare anno per anno. Durante l'anno, sì, se ne prendono di badoste, però poi arriva quello che è fondamentale, il divertimento e allo stesso tempo il bel risultato. La fase finale dei campionati da SC è sempre bella e avvincente. Noi quest'anno siamo presenti con due squadre. Stiamo giocando ora con i giovanissimi e abbiamo vinto con i piccoli campioni. Una bella partita tirata contro una forte squadra alla Lutos. Tanti genitori qui al Reggio Village. Come sempre la SC cura i particolari e ci regala una bella giornata di sport. Ringraziamo SC, è il secondo anno consecutivo della nostra scuola calcio, è il secondo anno che partecipiamo ad SC. Siamo molto contenti di questa competizione. Tra l'altro siamo alla seconda finale consecutiva per quanto riguarda il campionato Juniores. È una bella giornata di sport, tante persone, ma soprattutto tanti ragazzi. Io penso che questa giornata sia il clou di tutta un'annata dedicata proprio ai ragazzi. Con questa giornata finale hanno potuto assaporare il gusto di approcciarsi all'agonismo, quelli che sono i più piccolini e di vivere una giornata di gioco, di felicità, praticando lo sport che più gli piace. Non sempre si può vincere. Noi siamo riusciti in questi anni a vincere due primi posti con giovanissimi allievi. Quest'anno non siamo stati così bravi come negli altri anni. Uscire così con due finali, nel due finali, una persa 3-2, una persa ai rigori proprio all'ultimo minuto fa male, però bisogna dire e dare anche atto e merito alle due società che abbiamo incontrato, Salice prima e Gallinese dopo. Sono state due belle partite, due belle squadre. Sapevamo già che non era facile. Voglio dire che ha vinto lo sport. Anche se erano due finali, sono state due partite tranquillissime, con il massimo rispetto, con il fair play e con tutto quello che serve. È una splendida giornata di sport che Asker e Gioca Labria riesce a conciliare in ogni stagione sportiva. Chiudiamo questa trepitosa stagione sportiva che ci ha visto in finale con ben tre categorie. Siamo riusciti a triplicare il successo con la categoria 2015 che da tre anni consolida questo primato a livello provinciale e ci fa piacere. Complimenti anche a tutte le società aderenti perché anno dopo anno vedo che si sta cercando di migliorare e perfezionare anche il profilo del gioco, non badando esclusivamente al risultato finale che comunque è sempre incentivante e motivante per le attività che svolgiamo. È un'esperienza fantastica che i ragazzi non vivono solo oggi ma durante tutto l'arco dell'anno e tra i campionati, le fasi finali, si affrontano sempre squadre ben organizzate, c'è uno scambio anche tra noi mister di idee, di situazioni, è un momento anche di confronto. La vittoria è già portarli qua tutti insieme a condividere un momento di gioia, a condividere queste giornate che sicuramente per molti bambini resteranno nel loro cuore. Dopo un anno così di sacrificio tra allenamenti, campionato e tra semifinale e finale diciamo oggi siamo ripagati dal lavoro che si fa durante la settimana. Dà la possibilità ai ragazzi di mettersi in mostra e anche ai genitori di mandare i ragazzi e vedere anche le semifinali e le finali e anche durante il campionato. È stata una giornata positiva per noi visto che siamo riusciti a vincere sia con la categoria esordiente a 9 che con la singola nata 2.14 ma come dicevi non è tanto il risultato ma la vittoria è aver visto tutti questi bambini oggi giocare e divertirsi. A SC gli faccio i complimenti come tutti gli anni per l'organizzazione e per quello che fa durante l'anno per noi associazioni. Bella giornata intensa diciamo tutto l'aspetto del lavoro. Diciamo hanno contribuito i genitori da fuori, i ragazzi in campo. Insomma è stata una bella giornata per tutti. Sicuramente molto impegnativa. Molti sottopalutano il nostro impegno però siamo sempre presenti da un anno intero siamo qui. Siamo una giornata di festa. Quando c'è sport, quando ci sono bambini che praticano lo sport è sempre festa, è sempre bello. Oggi è stato veramente grandioso, tanta partecipazione, è stato un piacere vedere tutti questi bambini rincorrere la palla e tanto entusiasmo anche da parte dei genitori. Qualche volta un po' troppo entusiasmo ma per adesso va bene così. Sono in vesti di mister, sto giocando in questo torneo che è stato davvero interessante dove siamo confrontati con diverse società, amiche. Siamo molto divertiti. Oltre ai bambini anche noi mister abbiamo avuto il nostro spazio, anche i genitori ovviamente. Il prossimo anno preannunciamo già delle grandi novità. Inizieremo con le province di Crotone, Cosenza, La Mezzia, Catanzaro, Reggio e quindi ci sarà una grande famiglia SC che coinvolgerà tutta la Calabria. Siamo contenti di questa giornata che si avvia alla conclusione. Complimenti a tutti e grazie per aver partecipato. Ciao! Oh yeah!